Ben tornati, oggi primo maggio festa del lavoro, i sindacati confederali lo festeggiano a Perugia dopo cinque anni di visione hanno ritrovato unità di intenti ed è necessario che ci sia unità davanti a una prospettiva che non è del tutto rosa, il mondo del lavoro può essere declinato in tanti modi, uno dei quali è quello che si apprestano a fare i nostri sindacati a Perugia, la festa del lavoro, 5 milioni e 400 mila sono alla ricerca di un lavoro, dice Libero e fa eco a questo drammatico problema anche la stampa di Torino, giovani disoccupati, nuovo record, 38,4% e c'è l'emergenza donne, il mondo del lavoro può essere declinato dalla ricerca del lavoro ma anche chi sul lavoro perde ahimè la vita, le vittime sul lavoro a Velletri, le vittime sul lavoro sono tante, a Velletri è morto un operaio romeno di 46 anni sepolto dal crollo della palazzina nella quale stava lavorando, a Nero peraltro il titolare dell'azienda è stato arrestato, ma non ci sono solo le morti sul lavoro, ci sono anche i feriti sul lavoro e chi sul lavoro si ammala, dunque la sicurezza sul lavoro è importante? è fatta di tante cose costose, di controlli sanitari e di ricerca e di regole da conoscere soprattutto da rispettare, noi oggi ne vogliamo parlare con i nostri due ospiti, Giuseppe Lucibello direttore generale dell'INAIL e Andrea Magrini, l'abbiamo già conosciuto, segretario della società italiana di medicina del lavoro e di igiene industriale, grazie per essere qui. Allora dottor Lucibello, lei dispone di un osservatorio speciale dal quale insomma tiene sotto controllo, l'intero paese può confermare i dati che abbiamo appena detto, quello sulle malattie del lavoro è soltanto uno degli aspetti del problema, ma è un problema enorme. Sì, infortuni e malattie sono certamente in accentuato calo, i dati del 2012 ricordati proprio in occasione della ricorrenza odierna dal Presidente Napolitano dimostrano che si è passati da 726 mila denunce di infortunio del 2011 a 656 mila del 2012. I casi mortali si ridurranno, la nostra è una stima preliminare ma abbastanza solida, a circa 850-860 casi rispetto agli 893 casi mortali registrati nel 2011. Le malattie professionali finalmente, dopo anni di emersione voluta, nel senso che con una forte attività di trasparenza siamo riusciti a far emergere con il conforto di tutti gli altri attori del campo, le malattie scomparse, abbiamo tabellato malattie facilitando ovviamente l'onere della prova, nel senso che abbiamo stabilito il principio della presunzione legale d'origine. Oggi le malattie professionali denunciate sono circa 47 mila, non distanti da quelle del 2011. Chiaramente in momenti come questi la crisi ha colpito. Questo è l'andamento appunto della sicurezza sul lavoro, ma Grini il rischio è sempre grande quindi anche se paradossalmente potrebbe assumere un aspetto nano. Spieghiamo il perché, cosa vuol dire aspetto nano? Intanto sono rimasti sicuramente i fattori di rischio tradizionali, ne sono presenti alcuni adesso emergenti anche come lo stress da lavoro importante e poi sicuramente il fatto che le mutate condizioni di lavoro espongono oggi i lavoratori a concentrazioni molto basse degli agenti chimici e in particolare anche a nuove sostanze che hanno delle caratteristiche granulometriche molto ridotte, le nanoparticelle, le nanotecnologie, che costituiscono una sfida per il futuro, in quanto gli effetti sulla salute ancora non sono completamente nuoti e quindi ovviamente servirà una capacità da parte di tutti gli attori della prevenzione per verificare quelli che sono nel futuro gli eventuali effetti sulla salute dei lavoratori di queste nuove concentrazioni, nuovi scenari di esposizione. Allora occupiamocene meglio nel dettaglio con la nostra inviata Chiara Del Gaudio, la regia e di Antone Morabito. Apri e chiudi il pugno per piacere. Chi lavora spesso accumula veleni e non mi riferisco di certo ai semplici dispiaceri, ma alle tante diverse sostanze in grado di rovinarci la salute, di compromettere l'integrità del nostro organismo e il suo buon funzionamento. Per questo noi oggi siamo qui, proprio per affrontare questo rischio come si deve. Ci aiuta Pietro Apostoli, presidente della Società Italiana di Medicina del Lavoro e Igiene Industriale. Professore, intanto che cos'è questo posto in cui ci troviamo? Ci troviamo nei laboratori dell'unità operativa di medicina del lavoro, igiene e tossicologia occupazionale dell'azienda Spedali Civili Università di Brescia, dove appunto cerchiamo di dosare le sostanze tossiche presenti negli ambienti di lavoro. Manteniamo la nostra promessa iniziale e descriviamo la prima analisi. Si tratta della misura dei metalli nel sangue che viene o prelevato nei nostri ambulatori o arriva direttamente dall'esterno. Il sangue viene trattato e iniettato in uno strumento che è lo spetrofotometro ad assorbimento atomico, il più tradizionale dei nostri strumenti analitici, che provvede al suo riscaldamento. Si forma così una piccola nube di fumo e successivamente passa un raggio di luce specifico per ogni elemento e siamo così in grado di valutare attraverso la variazione della sua intensità la concentrazione dell'elemento appunto nel sangue. Questo è un esame molto specifico e sensibile. Quali sostanze nocive intercettate più spesso? Sono i metalli, vista anche la zona dove noi operiamo e quindi il cromo, nickel, piombo, arsenico, cadmio eccetera, ma anche sostanze organiche. Sono diverse decine di migliaia quelle presenti negli ambienti di lavoro e noi siamo in grado di misurare alcune centinaia. E per sapere se siamo inquinati dentro, certe volte basta un soffio, vero professore? È vero, questa è la tecnica del condensato dell'aria espirata che è stata messa a punto negli ultimi anni in un programma multicentrico internazionale a cui noi abbiamo partecipato. Un lavoratore respira normalmente in un'apparecchiatura per 15-20 minuti, l'aria viene bruscamente raffreddata in modo da poter consentire la raccolta dell'acqua presente nell'aria e quindi poi di procedere all'analisi sia dei composti tossici che dei prodotti della loro reazione. Come evolveranno in futuro queste tecnologie? Verso una sempre maggiore capacità di misurare le sostanze tossiche, ma soprattutto di studiarne i meccanismi di azione sull'organismo in modo da essere sempre più in grado di fare prevenzione e quindi tutelare la salute dei lavoratori. Grazie professore, ci fermiamo qui a voi studio. Grazie Chiara. Direttore Lucibello, anche l'Inai combina ricerca e prevenzione insieme. In che modo lo vogliamo sapere? L'ente si è evoluto negli ultimi anni in modo significativo. Da ente assicuratore, noto come ente assicuratore, adesso si è configurato come polo salute e sicurezza. Quindi assicura in qualità di garante e promotore della tutela globale integrata del lavoratore. Si parte dalla ricerca orientata alla prevenzione, quindi la ricerca orientata alla prevenzione ma anche le attività tradizionali di Inail, quindi le attività di tutti i giorni, il lavoro dei nostri medici orientano gli studi su rischi tradizionali e su rischi emergenti come il dottor Magrini ha ricordato. La ricerca è certamente il nuovo tassello di questo ente, una ricerca che potrà sviluppare tutte le problematiche e tutte le tematiche che miglioreranno e implementeranno i livelli di sicurezza su un po' legge dell'innovazione tecnologica. Direttore, quello della ricerca è uno dei tasti dolenti del nostro paese. In generale alla ricerca mancano sempre fondi. Dove li trovate voi? Come fate? Quanti fondi avete a disposizione? Noi abbiamo destinato nel piano delle attività di ricerca 2013-15 64 milioni di euro. Non sono pochi, accanto a questi soldi io vorrei ricordare, anche se non attengono la ricerca, è un istituto che ha aiutato anche l'economia nel tempo. Abbiamo destinato dal 2011 al 2013 circa 750 milioni di euro per aziende che nonostante la crisi hanno il coraggio di investire, di investire in sicurezza perché il costo della non sicurezza, che abbiamo stimato in 52 miliardi di euro, è un costo insostenibile. Allora, sentiamo ancora Chiara Del Gaudio con la regia di Antonio Morabito. Ci ritroviamo con Pietro Apostoli per raccontarvi una storia che può servire da esempio. Vero professore? È il caso di un lavoratore immigrato che è giunto alla nostra osservazione per una patologia broncopolmonare di sospetto natura tubercolare. Insieme a tutti gli altri accertamenti sono stati effettuati anche quelli di tipo tossicologico con il dosaggio del beriglio nel condensato dell'aria espirata e abbiamo quindi potuto concludere per una patologia professionale evitando così ulteriori accertamenti o terapie assolutamente non adeguate. Come sta adesso questo lavoratore? Avendo sospeso l'esposizione la malattia non è progredita, il lavoratore sta meglio. Questo è l'esempio di come gli interventi preventivi siano a volte risolutivi per la salute del lavoratore. Bene, grazie professore. Noi ci lasciamo con le parole pronunciate da Benedetto XVI quando era ancora Papa. La vita dell'uomo non è un bene disponibile ma un prezioso scrigno da custodire e curare con ogni attenzione possibile. La vita è un mistero che di per sé stesso richiede responsabilità, amore, pazienza, carità. Da parte di tutti e di ciascuno. Da Brescia è tutto, a voi studio. Grazie Chiara. Magrini, i soldi utilizzati in sicurezza sono un investimento, non sono soldi spesi così. Spieghiamo il perché e come facciamo a convincere le imprese di questo. Molte imprese già lo sanno perché hanno dentro i datori di lavoro la certezza che lavorare in sicurezza è un vantaggio per l'azienda stessa e per i propri dipendenti. Noi attori della sicurezza abbiamo la necessità, il compito di cercare di convincere il datore di lavoro attraverso il fatto che un'azienda sicura ha meno infortuni, ha meno assenze per malattie, produce meglio. I dipendenti sono sicuramente anche più motivati. Queste sono sicuramente voci che il datore di lavoro ascolta. Se percepisce invece soltanto come un costo la sicurezza, questo sarà un problema. L'Inail in questo è venuto anche incontro attraverso la detrazione fiscale per i sistemi di gestione sulla sicurezza. Quindi un incentivo in più. Un incentivo in più. Alcune aziende hanno ascoltato e speriamo che questo sia un meccanismo che possa essere in qualche modo seguito da tutte le aziende. Direttore, quest'ultimo morto, cittadino romeno, parla anche a noi perché lavorava senza che le condizioni sicurette siano osservate tant'è vero che il reato ormai è penale ed è stato arrestato il datore di lavoro. Parliamo del romeno morto a Velletri nel crollo del solaio al quale stava lavorando. Cosa fa l'Inail in termini di prevenzione? Voi avete i versamenti da parte delle aziende, ma molto spesso le aziende non rispettano i criteri di sicurezza. Quanti ispettori avete? Come fate a controllare un territorio così vasto? Purtroppo il sistema della vigilanza ispettiva è molto frastagliato. Inail dispone di poco più di 300 ispettori. Non sono sufficienti. Non sono sufficienti anche perché la mission di questi ispettori è molto circoscritta, molto ristretta. Noi possiamo limitarci all'esame della compliance, praticamente agli obblighi assicurativi. Chiaramente i nostri ispettori possono denunciare in questo le attività... Quindi vi muovete in parallelo con... Ci mettiamo in parallelo con l'attività di business intelligence, quindi analisi delle banche dati nostre, integrazione delle banche date Inil con l'Agenzia delle Entrate, con l'Arma dei Carabinieri, con gli ispettori del lavoro e con la Guardia di Finanza ovviamente. Il problema della vigilanza è un problema di unire l'elemento repressivo con l'elemento di consulenza all'impresa. Perché oggi in questo momento le imprese non vanno lasciate sole. L'operaio che è morto ieri è un operaio che verrà assistito dall'Inail perché per fortuna, nonostante fosse in nero, vige nel sistema delle prestazioni assicurative il principio dell'automaticità delle prestazioni. Una volta che l'infortunio viene denunciato, in questo caso purtroppo con esito mortale, Inil farà tutto quello che la normativa vigente consente per assistere il familiare e per risarcire per quanto possibile. E' una notizia che, come dire, non cambia in me lo stato delle cose, ma almeno consulenza all'impresa. Allora, quello della medicina del lavoro è una specializzazione richiesta dalle nuove leve, Magrini? Sì, diciamo che nei giovani la sensibilità nei confronti dei temi che riguardano la salute e la sicurezza del lavoro, ma anche l'ambiente, quindi la tutela dell'ambiente, è molto forte. Quindi i giovani anche che percorrono il percorso della formazione in medicina, quindi il corso di laurea in medicina, chiedono molto spesso di poter frequentare la specializzazione in medicina e lavoro e c'è anche la possibilità di formare quelli che sono invece i tecnici della prevenzione attraverso i corsi di laurea in tecnica delle prevenzioni. Questo darà ovviamente sbocco poi a professionisti che potranno impegnarsi per aiutare nell'attività di consulenza le aziende e cercare di aumentare quello che è il livello di sicurezza nell'ambiente di lavoro. Un appuntamento importante tra poco, in chiusura, giusto? Incontrerà il capo dello Stato. Il Presidente Napolitano su queste tematiche ci ha sempre fornito le indicazioni più opportune. Le abbiamo sempre seguite, lo incontreremo tra poco perché non ha mai mancato il primo maggio l'appuntamento con la deposizione di una corona al monumento ai caduti che si trova esattamente sotto la sede dell'Inail. Tra un poco lo incontreremo e ascolteremo le sue indicazioni e le seguiremo fedelmente. Sempre preziosissime, grazie. Grazie a Giuseppe Lucibello e ad Andrea Magrini per essere stato con noi.